Via la conta dei danni per l'incendio che ha interessato lo scorso mercoledì il tetto del residence Erika di Pescasseroli. Nella giornata di ieri i funzionari dei vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo nell'edificio per verificare le condizioni di sicurezza e agibilità. Sono cinque le abitazioni che fanno parte del residence di cui due abitate. Per l'inquilino era stata disposta l'evocazione catelativa e per il rientro degli stessi i tempi restano lunghi. Dalle verifiche infatti è emerso che si rendono necessari alcuni interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Le fiamme oltre a gran parte del tetto hanno interessato anche l'ascensore e le porte di alcune abitazioni. I danni stando alle prime stime si aggirano intorno ai 50 mila euro. Le fiamme erano divampate durante i lavori di saldatura effettuati da due operai. Uno di questi BR e le sue iniziali quarantenne romano è rimasto intossicato ed è ancora ricoverato in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Casteldisangro chiamati a far luce sull'episodio. Grazie a tutti.